Siamo a San Leone, la zona di mare di Agrigento, di qua c'è il mare, di qua c'è BNB Xenia, andiamo a conoscere Ivan che è il proprietario. BNB Xenia, siamo a San Leone, la zona di mare, la località di mare di Agrigento, e siamo insieme a Ivan che è il proprietario di questa struttura. Grazie per averci accolto. Qui ti chiedo se ci vuoi descrivere la tua struttura. La mia struttura è composta da 5 camere, di cui 2 hanno la cucina privata e 3 possono soffrire la cucina comune. Quindi se vengono le famiglie con i bimbi qua sono tranquilli? Sì, possono riscaldare il latte ai bambini piccoli, oppure possono fare anche un piatto di spaghetti loro. Poi hanno tutti i comfort dal climatizzatore, al frigo, alla televisione, al phone, tutti i comfort. Poi ho visto che sono pure stanze grandi. Sì, sì. Piccole, sono enormi, spaziose, e poi super pulite, quindi facci complimenti per questo. Grazie. Invece parlami un po' del posto. Noi siamo a San Leone. Sì. Che si fa a San Leone? Il periodo estivo è proprio popolatissima a San Leone perché ci sono tutti i vari chioschetti che organizzano le serate, sia discoteca. Quindi c'è la movida. Sì, sì. Tantissima. Tiena la movida, sì, sì. Tra l'altro si fa a ballare gratuitamente, quindi... Che significa gratuitamente? Che non c'è bisogno di acquistare biglietti. Tu vai nel chioschetto e quindi... Ah, ok. Quindi mettono la musica e la gente balla là. Sì, balla tranquillamente. Poi prende... Sul mare, perché siamo sul mare. Sul mare, sì. Qui saranno un 200 metri, proprio la prima spiaggia dove poter prendere il sole. Poi lungo il Via delle Dune ci sono vari chioschetti. Hai parlato di spiagge, quindi ci sono delle spiagge che sono attrezzate anche? Ci sono sia le spiagge libere, che chiunque può andare a stendere il proprio telo, sia le spiagge attrezzate con gli ombrelloni, le sedi di sideraio e tutto. Quindi lo possiamo dire che questo è un posto per le famiglie? Sì, sì, sì. Perché qua si arriva, anche se ci sono i bambini, stanno tranquilli. Sono tranquillissimi perché hanno anche il servizio del bagnino e quindi... Invece se io volessi andare a mangiare da qualche parte? Consigliamo quasi sempre di andare qui a pochi passi al capriccio di mare. Ok. Tra l'altro abbiamo stipulato anche una convenzione che intanto, nel nome nostro, hanno uno sconto del 10%. Ottimo. Invece oltre al mare qua c'è la Valle dei Templi. La Valle dei Templi che è proprio una tappa obbligatoria, soprattutto nel periodo estivo da metà luglio e metà settembre fanno fare anche la visita notturna e quindi... La visita notturna. Sì, sì. Di notte c'è un'atmosfera magica, diventano spettacolari. Un'atappa obbligatoria anche per chi viene qui è la Scala dei Turchi. Sì, posto magnifico. Sì, sì. Anche questo è spettacolare. Che è sul mare, ha strapiombo sul mare. Sì, ha strapiombo sul mare ed è a Real Monte, proprio come comune. Io ti ringrazio ancora, ci siamo detti tutto. Sì, saluto. Grazie a voi. Da Viaggiamo in Sicilia è tutto. Ciao e alla prossima. Ciao, ciao. Ciao.